ciao sono simone prodotta expert mercedes benz della concessionaria gmg di prato hai mai visto una macchina parcheggiare da sola dalla faccia che stai facendo credo proprio di no allora ti consiglio di guardare questo video e di scoprire come mercedes benz rende l'impossibile possibile vediamo ora come attivare il parcheggio assistito per prima cosa andiamo a portare la leva del cambio in drive e successivamente andiamo a premere il tasto del park assist sul tunnel centrale inserisco l'indicatore direzione a sinistra destra in base alla strada in cui voglio trovare parcheggio lascio il freno e la macchina inizierà ad avanzare i sensori anteriori e posteriori stanno ovviamente rilevando la zona del parcheggio idonea per effettuare la manovra una volta che avranno rilevato lo spazio necessario comparirà una p sul display dell'infotainment la vado a selezionare inserisco la retromarcia e la macchina è pronta ad effettuare il parcheggio in maniera completamente autonoma è un sistema ausiliario e non sostitutivo alla guida quindi io durante l'intera manovra devo mantenere un grado di attenzione elevato tolgo il piede dal freno e la macchina come potete vedere accelera da sola effettua anche le manovre di sterzata e anche quelle di frenata come potete vedere la macchina è riuscita in totale comfort a parcheggiare in maniera automatica posso effettuare anche la manovra di uscita dal parcheggio quindi seleziono nuovamente il tasto del park assist sul tunnel centrale premo uscire dal parcheggio metto il cambio in drive la macchina ha messo in maniera automatica alla freccia tolgo il piede dal freno e la macchina tranquillamente si rimette in carreggiata seguici sulle nostre pagine social instagram e facebook per scoprire altre potenzialità della sua vettura ciao